Ricordo a chi non lo sapesse, ma lo sappiamo tutti, passa il treno sotto la matica, può passare fuori al centro di San Buceto. Cioè non credo che sia così impossibile far attraversare San Buceto. Poi non arrivano le preghiere, le osservazioni tecniche o le proposte alternative. Potranno arrivare le catene? Questa è la speranza del sindaco di San Giovanni Teatino, Giorgio Di Clemente, che ha messo in campo se stesso nella battaglia contro l'attuale progetto di raddoppio della linea ferroviaria Roma-Pescara. Per dare un segnale forte, il primo cittadino ha deciso di incatenarsi al passaggio a livello che già ora, in modalità mono, spezza in due il centro della cittadina. Il sindaco di Chiedi Ferrara ha detto che comunque ci sarebbe un progetto alternativo da esporre, già esposto appunto a RFI, perché loro dicevano sostanzialmente ci vogliono 8 km di rampa da un lato e dall'altro per fare interramento. Ieri mi diceva il sindaco Ferrara, noi stiamo dimostrando che basta in realtà un chilometro. E quindi, secondo lei, su questo nuovo progetto che prevede appunto l'interramento, come voi chiedete, c'è un'interlocuzione valida oppure vi si ascolta solo per? Grazie per la domanda. Prima l'ho detto, allora parlo con più calma, perché io per cercare di dire tutto ho accelerato un po' il mio modo di essere, di parlare. Nel 2018 RFI ha proposto, dopo il nostro richiesto, un progetto dove si parlava chiaramente della fattibilità, possibilità di avere un interramento di circa 800 metri, con 900 metri da un lato e 900 dall'altro come risalita percorribile. Quindi parliamo di circa 3 km di lavorazione. Oggi si risponde che ci vogliono 8. Io non sono tecnico, non sono ingegnere, ho la mia laurea sul campo di lavoro, ma sinceramente mi sembra assurdo questi 8 km. Dico a RFI di ascoltare quello che oggi noi proponiamo, perché abbiamo incaricato, giustamente come era giusto fare, un luminario universitario che ci sta già prospettando delle alternative positivissime per il territorio, cose che allegheremo, porteremo al tavolo delle trattative, mi auguro presto con RFI, dove noi dimostreremo, ripeto, che c'è la fattibilità senza abbattere, o forse, ma io dico senza abbattere, se poi ne cadrà mezzo, ne cadrà un quarto di casa, chiedo perdono se dovesse succedere anche in quel caso, ma cercheremo di evitare anche l'angolo di casa, perché la casa, ripeto, è un qualcosa che non è da togliere a chi ha tanto sudato, ma a parte la casa, parliamo dell'ambiente, parliamo, ripeto, della viabilità, parliamo di quello che è San Giovanni di Ateo San Buceto. Noi non ci arrendiamo. Noi non ci arrendiamo.